Marco Montanari del Movimento 5 Stelle, buongiorno. Sa di cosa però io ho molta paura, quando sento dire qua è colpa dell'Europa, allora là secondo me si perde la responsabilità, tutti dicono è purtroppo colpa dell'Europa. Ho molta paura di questo. Ma vede, se questo stabilimento e queste 497 famiglie non fossero in Italia ma fossero in Germania, e posso garantire che la risposta dell'Europa sarebbe ben diversa. Noi abbiamo l'intenzione di andare a Bruxelles per avere dall'Europa una risposta di tipo tedesco, perché noi siamo come la Germania e esigiamo dall'Europa di avere le stesse cose che l'Europa dà alla Germania. A queste 497 famiglie, molto banalmente, noi diciamo non vi lasceremo indietro, nessuno di voi verrà lasciato indietro, nessuno di voi verrà lasciato indietro. Questo è l'impegno di cuore che noi ci prendiamo. Nessuno di voi verrà lasciato indietro. Come? Con una soluzione ponte, ovviamente in attesa di una soluzione definitiva. Ma questo stabilimento, per quanto ci riguarda, deve continuare a produrre. Che debba produrre compressori per frigoriferi? Io non lo so, dobbiamo naturalmente avere il dossier in mano, ma dopo una soluzione ponte ci dovrà essere una soluzione definitiva, perché queste 497 persone e queste 497 famiglie devono essere trattate come se fossero 497 tedeschi. Non si capisce come, l'ho appena detto. Cioè come? Una soluzione ponte, sino a che non troveremo una soluzione definitiva. Specifichi meglio la soluzione ponte. Questi signori, queste 497 famiglie, devono avere la possibilità di arrivare con uno stipendio a fine del mese, sino a che non sarà trovato una soluzione definitiva. Io capisco, voi siete 25 anni che rovinate questo paese, questo atteggiamento da mendicanti nei confronti dell'Unione Europea. No, non è una cosa diversa. No, noi non dobbiamo andare a chiedere niente all'Unione Europea. Vedete, non c'è nessun male a dire che se il governo fa bene o male. Diciamo quello che l'Unione Europea deve fare. La cosa che è brutta. Noi siamo come la Germania. Questa è la differenza tra noi e voi, mi permette. Allora, volevo dire una cosa riguardo all'Europa che avete nominato. Volevo farvi un esempio. Innanzitutto non dovevamo già arrivare a queste regole sbagliate e andare a correggerle adesso. Dovevano già pensarci prima chi di dovere. Poi volevo farvi un esempio a voi in studio, come in generale. Allora, fate conto che a casa vostra, io la paragono, ma abbiate cinque figli, non ho cinque figli, è un esempio. Maschi e femmine, maggiorenni e minorenni. Questi figli qua, voi li trattate tutti uguali o fate le differenze tra maschi e femmine? Perché in Europa, ci riempiamo tanto la bocca di Europa, ma ci sono troppe distinzioni. L'Europa è come fosse una famiglia, devono essere le regole, uguali per tutti i figli. Maschi, femmine, grandi e piccoli. O sbaglio? È così, infatti. Allora, io voglio sapere cosa succede a dei dirigenti di un'azienda che si permette di non pagare i dipendenti. Probabilmente nulla. La cosa che non mi stupisce è che ci siano degli stipendi arretrati. La cosa che non mi stupisce è che lo Stato non paghi i propri fornitori da un sacco di tempo. Questo fa parte delle politiche di austerità espansiva, come si chiamavano una volta, adesso non hanno più il coraggio di chiamarla così, che fanno parte della visione ideologica che ci ha portato a queste situazioni. Ci ha portato all'embraco, a Riva di Chieri, ci porta ai dipendenti in Sicilia che devono trattenere i soldi in modo non corretto sugli incassi addirittura delle corse. Ci stiamo riducendo come un paese non degno del proprio rango in Europa. E questo deve finire.